Dottor Basso, la particolarità di questa operazione in che cosa consiste? La particolarità consiste in una duplice caratteristica. Una è quella della gestione dell'indagine a vari livelli da parte dell'arma dei carabinieri. Cioè si parte da un'attenzione del territorio e sul territorio operato dalla stazione carabinieri competente fino a salire, quando l'indagine diventava più impegnativa, anche a reparti più specializzati. L'altra è quella della localizzazione del fenomeno di spaccio di stupefacenti nella parte estrema sud della provincia di Oristano che è un po' un inedito rispetto a quelle che sono le abitudini e i luoghi più trafficati da questo punto di vista che sono quelli invece del nord e dal solone.